Più che la B degli onesti, come si sono affrettati a definirla da Ascoli, quella dei bianconeri è la B dei secondi. Già perché, nonostante la sentenza della Corte di Appello federale, abbia stabilito che tentativo di illecito è stato consumato, ma non ha potuto confermare che l'illecito sia stato consumato. La sentenza parla chiaro, revoca della vittoria del campionato e della promozione nella categoria superiore del Teramo che passa all'Ascoli. In pratica, il Teramo è arrivato primo, ma non ha vinto il campionato. Ironia della sorte, i biancorossi dovrebbero anche sorridere a metà sulla sentenza di Appello. Questo perché è giusto ricordarlo che sabato mattina il Teramo era in Serie D, mentre sabato sera si è ritrovato in Lega Pro. Una bella differenza, quella che passa da un campionato dilettantistico a uno professionistico, con il parco giocatori che resta di proprietà e soprattutto con la certezza che in molti resteranno alla Corte del Diavolo. Le altre certezze sono che Luciano Campitelli per tre anni non sarà più presidente del Teramo, ma diventerà il patron e che Ercole Cimini dovrebbe ricoprire la carica di presidente onorario. Tra tre anni Campitelli tornerà a fare il presidente a tempo pieno. Ci sarà un amministratore delegato con potere di firma, che sarà scelto all'esterno dell'attuale struttura societaria e anche del gruppo della Saporiveri, la holding di Campitelli e Cimini. L'allenatore sarà Vincenzo Vivarini. Il tecnico di Ari non ha mai pensato di mollare con il Teramo tra i pro e guiderà ancora la squadra dove resteranno in molti. Assicurazioni sono arrivate in tal senso a Campitelli dagli stessi giocatori nell'incontro di ieri mattina. Il sogno? Quello di tornare a formare per la prossima stagione la coppia d'attacco composta da Donnarumma e Lapadula. Il primo è già del Teramo, anche se le sirene della Serie B continuano a suonare e cantare, salernitane e lanciano su tutte. Il secondo è del Pescara, ma bisognerà valutare se rientra nei piani di Oddo oppure no. Certo, sarà difficile riportarlo a Teramo, ma non è detto che non ci si provi. Campitelli ieri sera era un leone ferito. Sabato sera a caldo aveva anche pensato di mollare e non iscrivere la squadra per protesta. Ieri mattina ha voluto incontrare i giocatori per sondare il terreno. In serata era già tornato a pensare al campionato con la voglia di chi vuole riprendersi sul campo quello che in tribunale gli è stato tolto. Giustamente? Ingiustamente? Le sentenze, si è chiaro, possono essere condivise e non condivise, ma devono essere rispettate, anche se di un tribunale sportivo si tratta.